Amo, amo, per favore, domanda il video ad un'amica mia per complarlo solo Eh, spiegate però, è amica tua, va, va Vai, ci stai? Sì, mettete bene Ciao Ale, tanti tantissimi auguri Ma chi è Alessia? Amo, aspetta Vabbè, vai Guardati che sei la mia migliore amica La migliore amica di chi? Qualcun altro? La migliore amica tua sono io Vabbè? Vabbè, no, vabbè, lo rifai, lo dici bene Dai, spiegate pure Sei bellissima, sei la più bella di tutte Sì, vabbè Magari è pure bionda questa, vedi? Ammassamo però Eh, dai, va a far quello di lei